Samira Lui e Pier Silvio Berlusconi fotografati insieme, voci sul loro rapporto. Samira Lui apparirà prossimamente in Mediaset, con la ruota della fortuna. Infatti sarà lei ad affiancare Gerry Scotti e proprio per questo motivo i rapporti con Mediaset stanno diventando sempre più stretti. Delle fotografie pubblicate da Dago Spia, però, mostrano che si sta facendo più approfondita anche l'amicizia con Pier Silvio Berlusconi. Nelle immagini, i due camminano insieme e Samira stringe Pier Silvio in un abbraccio. Roberto D'Agostino ha fatto sapere che queste fotografie non sono passate inosservate a Cologno Monzese, e che ovviamente hanno fatto molto discutere. Queste parole sibilline lasciano intendere che qualcuno possa aver ipotizzato una relazione tra loro, o una sorta di amicizia speciale. Poi, Dago Spia fa sapere che probabilmente queste immagini hanno innervosito Silvia Toffanin, concludendo il tutto con un uva, non saperlo. Queste ultime parole lasciano intendere che il giornale di gossip abbia effettivamente avuto conferma che le foto non sono piaciute alla storica compagna di Pier Silvio Berlusconi. A peggiorare la situazione, le parole di stima che i due si erano scambiati poco tempo fa, proprio nel periodo in cui si stava organizzando tutto per il grande ritorno della ruota della fortuna. Nell'ultimo periodo, infatti, sui social Samira lui si era lasciata andare a tante parole di stima e riconoscenza nei confronti di Pier Silvio Berlusconi. Sui social, aveva scritto che Mediaset è una grande famiglia guidata da una bella persona, cioè proprio Berlusconi. All'epoca il post era passato inosservato, ma oggi sembra avere un senso in relazione alle foto che sono trapelate, e che dimostrano quantomeno un'amicizia tra i due. In passato, Samira lui ha collaborato con la Rai, prima prendendo parte all'eredità con Flavio Insinna, e poi partecipando all'edizione del 2022 di tale e quale show. Le sue interpretazioni sono piaciute molto al pubblico e lei ha amato cantare fin da bambina. Nel 2023 è arrivato il passaggio a Mediaset con la partecipazione al grande fratello Vipe Dora, nel 2024, c'è la ruota della fortuna nel suo futuro lavorativo, che potrebbe essere la consacrazione per sempre. Intanto si sta parlando molto di lei proprio per via di queste immagini con Chersilvio Berlusconi e resta da capire se trapeleranno altre immagini o se è avvenuto un semplice incontro in amicizia e, per questo, tutto finirà qui. Voi che cosa ne pensate? Avete visto le foto e secondo voi che cosa è successo davvero tra i due? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti! Grazie a tutti.